Ciao, Quinto, sono 18 mesi che non c'erano. Mi sono fatti 24. Eri in Marina? Sì, era medico del Bordeaux. Che c'è da mangiare? Cerchiamo di farmi fare una bella figura che è questo che è da Milano. Ci sono gli spaghetti alla punta pesca, i bucatini alla sozzona e i rigatoni alla cacchete sotto. Per me è un panino al prosciutto. Non ti affende perché questo vi è al settentrione. A me fanno un bel piatto di tutte e tre che c'è una fametta a regalo. A me mi porti una bella trippa caldiarda. Fanno sto britti, si va.